Arti visive, danza, musica, teatro e molto altro animeranno le vie di Vicenza da venerdì 6 a domenica 8 settembre. 24 iniziative, 42 partner, 240 ore di attività. Protagoniste anche alcune sculture dell'artista catalano Salvador Dalì, legatissimo a Palladio, collocate in fiera e successivamente spostate in città. La terza edizione di Vioff, fuori fiera di Vicenza Oro, porterà le bellezze anche nel centro. Facciamo conoscere Vicenza al mondo, questa è la missione che ci siamo dati per fare in modo che poi ci sia uno sviluppo turistico e devo dire che sta funzionando perché i numeri di turisti in arrivo a Vicenza sono in netta crescita. Il concetto di padiglione diffuso è un concetto che va oltre le mura del quartiere fieristico ma vuole valorizzare la città. Proposti anche tour guidati ai due siti archeologici più significativi, un percorso di siti comunali, uno del Museo di Ocesano con i 90 metri di portico sotterraneo che saranno aperti a prezzo competitivo, sfalsati come orari, consentono in mezza giornata di vedere com'era Vicenza in epoca romana. Vicenza è la città veneta che ha maggiori siti di epoca romana, forse poco noti, sicuramente poco valorizzati, la nostra è una sfida. Io vorrei soprattutto che fosse rivolto ai vicentini che vedessero quanto è bella la loro città e soprattutto parte tutto dall'epoca romana. Palladio ha guardato i classici, ha guardato all'epoca romana. E poi i primi ballerini della scala di Milano, il premio VIOF per chi ha tenuto alto il nome di Vicenza nel mondo e la prima edizione andrà all'imprenditore Alberto Zamperla, il tutto con una spesa irrisoria per le casse comunali. Di fatto VIOF si autosostiene, possiamo comunicare che al Comune di Vicenza è costato solo 2000 euro e questo dà la misura di quanto anche le realtà private abbiano deciso di abbracciare questa sfida. Un evento che porterà anche maggiore sicurezza in città. Dove c'è evento, dove c'è cittadinanza non c'è di solito malaffare, non c'è delinquenza, quindi garantiremo con le forze dell'ordine un servizio di sicurezza che possa appunto lasciare i vicentini tranquilli nello girare in centro. A Campomarzo ad esempio ci saranno il mercatino dell'antiquariato nel weekend, il Luna Park, il festival musicale nella parte più difficile dell'area.